Tra università coinvolte, una settimana di lezioni, l'opportunità ai giovani di immaginare il proprio futuro. Ritorna per il secondo anno consecutivo, tra lunedì 28 agosto ed il primo settembre a Palazzo Bembo, la Dolomiti Summer School, l'iniziativa promossa da Confindustria Belluno Dolomiti in collaborazione con le università di Trento, Verona e la Luis Guido Carli. Vogliamo aiutare i giovani a non sbagliare la scelta della facoltà universitaria facendogli provare che cosa significa concretamente seguire un corso di ingegneria piuttosto che di medicina, piuttosto che di giurisprudenza perché sappiamo che attraverso questa esperienza la possibilità di commettere un errore quindi di scegliere una facoltà che poi alla fine non piace, non convince fino in fondo si abbassa fino quasi ad azzerarsi. Lettere marketing, scienze mediche dello sport, informatica e robotica, ingegneria e scienze sociali così sarà articolato il calendario delle lezioni. È un investimento per i nostri giovani che continuiamo a cercare di formare nel modo migliore con tutti i progetti che stiamo mettendo in campo dall'ITS fino alla Luis Business School e ai master che partiranno anche con la Luis. Le iscrizioni sono ancora aperte, il mio appello va soprattutto agli indecisi perché l'estate non vada persa, ha giunto la presidente degli industriali bellunesi Lorraine Berton. Il momento di scegliere cosa fare del proprio futuro è ora, ribadisce. Non c'è dubbio per gli imprenditori della montagna il tema delle competenze è strategico. Sappiamo che competenze e innovazione sono i due grandi fattori di attrattività di un territorio. La nostra provincia sta soffrendo dal punto di vista demografico e quindi le uniche soluzioni che possiamo mettere in campo sono queste.